A tutti quelli che vogliono che Steve Giard porti qui il Boucho Pato, due mani in aria! A tutti i fatti il Boucho Pato, due mani in aria adesso! Robi giù! Tu cacabelle! E si puccero! Ehi! 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 Tu cacabelle! Omg canna una volta su, no m'allora lo pievano! Pi错i da, delle mani in aria, di sp Aaron! Pobre di piedi i gatti, di chiici, m'u s'alla guardia p sm словarno da parte italiana! Spalom, pos Planet, dja, di burro, su! Focca Restiti! Ultima solo per Kuay! Tutti quelli che vogliono un'altra controlle su un banco, un segreto in aria, su! E lo ricordiamo, il 13 febbraio, il diavazzaglio Kat, la stasnova e fuggina contro letto, ci sarà un altro Clash, ancora Kilo Taitriking, e ci vediamo lì perché il generale che ancora ormai con la Veneto non c'entra più quasi niente, e si fa sicci, grazie ancora, vostro seguimento, via ciao! Ok Veneto, please, com'è stato il cool play? Il grande ritorno di Ciancone, adesso è il centre, tocca al Castaparia da Verona!